Ben ritrovati amici del Centro Medio Italiano, giornata ancora in compagnia di nuvolosità e nebbie sull'Italia. Vediamo allora nel dettaglio le previsioni per mercoledì 4 novembre. Nebbie e nubi basse al mattino su pianura padana, Liguria, Toscana e Umbria, asciutto altrove con cieli irregolarmente nuvolosi. Al pomeriggio molte nuvole specialmente al nord-ovest ma senza fenomeni associati. Nubi irregolari e variabilità altrove. In serata e nottata ancora nubi basse e nebbie su costa e pianure del centro nord, anche fitte in Valpadana. Altrove non sono attese variazioni di rilievo. Temperature stazionarie o un lieve aumento sia nei valori minimi che in quelli massimi su tutta la penisola. Per ulteriori dettagli seguite le previsioni aggiornate sul nostro sito o sulla nostra app Meteo. Un saluto da parte del Centro Medio Italiano.